La meditazione, se tu provi, ti assicuro che tu arrivi al piacere. Si dice, il Buddha dice, questo è scioglimento dell'Umpadana. Noi abbiamo, dice il Buddha nel canone Pai, 1500 Umpadana, cioè attaccamenti. Gli attaccamenti nel buddismo sono gli attaccamenti all'idea dell'Io, di esserci, di esistere come individuo separato dal tutto e come oggetto materiale. Sono 1500 gli attaccamenti illusori che riproducono incessantemente questa impressione di esistere come individui e come oggetti, separati dal tutto. Questi Umpadana, questi attaccamenti sono 500 del corpo, 500 delle emotività e 500 della mente. Di vita in vita, di morto in morte, lasciamo e moriamo per scegliere questi attaccamenti. Lo scioglimento e il superamento di tutti questi attaccamenti è in nirvana. La meditazione è un processo di accelerazione evolutiva. È un processo di accelerazione in cui questi 1500 attaccamenti vengono affrontati e risolti. Come andandoci dentro, l'attaccamento sempre si manifesta come dolore, sempre. Il dolore, il fastidio, il disturbo sono sempre manifestazioni dell'attaccamento. Il dolore, il dolore, il dolore, il dolore.